cantina e qui si prende olio che olio olio nuovo posso fare così buono buonissimo è buono davvero aspetta voglio assaggiare ancora poi ehi non ti arrabbiare buono ma ora io voglio fare una cosa proibita guardate quanti bottiglie ci sono mamma mia ma qui c'è tutto spumante mio uomo dice non aprire perché scoppia voglio aprire uno non aprire uno voglio tirare proviamo questo lontano vuoi paura io voglio vedere tacchietta e tacchietta vuoi non c'è tacchietta forse non c'è tacchietta perché non c'è tacchietta paura tanta che scoppia ma non c'è tacchietta qua non c'è tacchietta non lo so perché non c'è ma non c'è tacchietta qua bottiglie mille bottiglie qui ci sono mamma mia come buono questo olio questo stra buono olio proprio stra buono oh mamma mia ma questo che cos'è ragni guardate quanti bottiglie quanti regnatelle impressione mi questa ah quanti anni hanno poi poi 40 anni 50 anni 60 anni oh mamma mia quanti bottiglie ma che cos'è questa roba roba antica ah pazzesco quanti bottiglie pazzesco pazzesco mai visto io roba del genere mamma mia paura ma questo che si è accumulato così sporco mamma mia paura